Mamma mia ne ha fatto un altro il Sassuolo, 5 babà in casa dell'Empoli, ha segnato di nuovo Scamacca, che è un cambio veramente incredibile per il Sassuolo, mamma mia finisce 5-1 in casa dell'Empoli, ne parliamo un po' rapidamente perché dopo ci sono altri post partita, ma veramente una partita straziante per l'Empoli perché aveva iniziato bene i primi 10 minuti, tante occasioni diciamo anche il Sassuolo, ottimo Sassuolo nei primi 10 minuti che poi fa molte parate. Oggi il migliore in campo dell'Empoli è Vicario che nonostante 5 gol fa veramente tante tante parate ma ne prende anche 5 perché dopo pochi minuti la sblocca subito Berardi su calcio di rigore, fallo di Henderson che mette il piede, anticipa, diciamo Berardi lo anticipa, mette il piede per prendere il palone ma fa calcio di rigore e lo trasforma Berardi che spiazza Vicario, tira centrale e Vicario si butta dall'altro lato. 1-1 dopo 15 minuti, mamma mia la prima occasione dell'Empoli, Henderson si fa perdonare e segna subito il gol e diciamo che mette un po' in pari l'Empoli, un crossbust di Pinamonti e poi arriva l'errore di Maxime Lopez e quindi calcia e segna Henderson. Poi il 2-1 dopo 24 minuti i raspatori che fanno una grande partita doppietta, grande azione personale, ne salta due stersa e poi tira da fuori area e batte Vicario. Poi inizia il secondo tempo, l'Empoli attacca nel migliore momento dopo un quarto d'ora, prende rosso Viti, ingenuo dopo in 30 secondi prende doppio giallo, prima per fallo, poi strattona l'altro, giallo, doppio giallo, rosso per Viti. L'Empoli rimane in 10, ne prende altri 3, la mossa di Dionisi che ha giocato bene e sta solo anche se a lui non è piaciuto molto ma poi dopo il 2-1 è piaciuto direi altri 3 gol. Entrano Frattesi e Scamacca che rompono la partita, Frattesi un ottimo giocatore a centrocampo e partito dalla panchina Scamacca che poi segna subito il gol del 3-1, Tonelli perde clamorosamente, bala e la strappa Raspadori e tira Scamacca e fa il gol del 3-1. Poi finisce la fisionomia del match che si prende grazie a questo cartellino rosso che condiziona la partita dell'Empoli, 4-1 addirittura di Raspadori, miracolo di Vicaria ancora su Scamacca ma poi arriva il tapin di Raspadori e fa il quarto, 4-1 ma poi arriva il quinto gol, ora in extremis di Scamacca che quindi non si ferma più questo Sassuolo. 5-1 all'Empoli, uno scontro diretto, era ora il Sassuolo supera l'Empoli a pari punti ma lo supera e quindi l'Empoli scaraventato giù ma veramente 5 gol del Sassuolo che domina dopo l'espulsione, quindi mezz'ora domina dopo l'espulsione di Viti. Per questo video è tutto, mamma mia che partita, noi ci vediamo dopo con Roma-Juve e tanto altro.